Cosa fa Messer con quella macchina infernale? Stregoneria, stregoneria! Non lo sai che siamo nell'anno 1100-1100 e nell'anno 1100-1100 capire l'immagine dello creato del Buon Dio vuol dire infrangere il copyright, come si diceva nel Medioevo, del Buon Dio al quale solo stava il diritto di riprodurre le immagini del creato chi riproduceva le immagini, a parte in un'immagine sacra, compiva un sacrilegio da venire mangiato, divorato, bruciato, non necessariamente in questo ordine